Io nel sistema informatico messo a disposizione dalla regione, in cui entro con il mio codice fiscale, ho avuto comunicazione di un unico caso. In realtà, da fonti non ufficiali, in una giornata come quella di oggi, mi risultano tamponi effettuati da cittadini di Castiglione Fiorentino, il cui esito per una decina di loro dovrebbe essere positivo. Questa nostra intervista con Mario Agnelli, sindaco di Castiglione Fiorentino, è stata realizzata il 14 ottobre scorso. Il dato di cui parla il primo cittadino del comune della Valdichiana sarà ufficializzato nel report della ASL Toscana Sud-Est solo 48 ore dopo, il 16 ottobre. Un tema, quello dei ritardi nelle comunicazioni dei casi positivi ai sindaci, che era stato sollevato ancora prima dal sindaco di Laterina Pergine Valdarno, Simona Neri, mentre il sindaco di Montessanzavino, Margherita Scarpellini, aveva scritto una lettera in merito a questo al sindaco di Arezzo affinché come presidente della conferenza dei servizi convocasse l'azienda sanitaria. Intanto il direttore generale della ASL Toscana Sud-Est, Antonio Durzo, ai nostri microfoni risponde così. Direttore, i sindaci ci raccontano, insomma, di, diciamo, chiamiamoli ritardi, così vengono definiti nelle comunicazioni, soprattutto dei casi positivi, quindi che riguardino la scuola oppure no. Alcuni cittadini ci hanno, primi cittadini ci hanno proprio messo la faccia, l'hanno fatto anche con lettere ufficiali o con interviste, altri magari lo sottoscrivono. Come risponde l'azienda sanitaria? La posizione dei sindaci stupisce. I sindaci hanno accesso al SISPC in base a un accordo che Regione Toscana ha fatto proprio con l'Associazione dei Sindaci. Il SISPC è aggiornato alle 8 della mattina. Proprio stamattina si è svolta una conferenza dei sindaci alla presenza del capo di gabinetto della presidenza della Regione Toscana, in base alla quale, su mia proposta e su richiesta dei sindaci, i sindaci della Toscana Sud-Est avranno sperimentalmente l'accesso al SISPC con aggiornamenti in tempo reale. Quindi i sindaci potranno avere la possibilità di accedere al SISPC e vedere i casi e i contatti di caso individuati dal Dipartimento di Prevenzione in tempo reale. Quindi per la Toscana Sud-Est nessun ritardo. Può essere che questo inserimento di questi dati abbia una differenza temporale rispetto a quando lo sa il medico di base o chiunque abbia effettuato il tappone? Anche su questo stiamo lavorando. Abbiamo condiviso ieri in una riunione con il Presidente Gianni e col Direttore del Dipartimento regionale per la istituzione di una centrale di tracciamento per provincia. Quindi nella Toscana Sud-Est ci saranno tre centrali di tracciamento. Quindi vedremo in forma unificata, attiveremo una task force dedicata per fare l'attività di valutazione del risultato dei tamponi, identificazione dei casi e identificazione dei contatti. Tutto questo su base provinciale con nuove risorse in maniera tale da evitare, se i ritardi ci sono stati, in modo tale da evitare perdite di tempo e di lazioni.